la nazionale di mancini ha fatto un figurone agli europei 2020 e con la vittoria della coppa che li ha portati sul tetto d'europa gli azzurri sono anche diventati ufficialmente i giocatori più ambiti del calcio mercato ma quanto valgono i ragazzi di mancini gigio donna rumma nominato miglior giocatore del torneo dell'uefa e sicuramente il più osannato dagli italiani lungo tutta la penisola si è meritato un contratto da 12 milioni di euro per cinque anni al psg il suo valore prima degli europei era di 60 milioni ma grazie al suo ruolo nella vittoria e alla giovanissima età oggi potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro spinazzola che per due volte è stato nominato migliore in campo è passato da 26 milioni a una quotazione di circa 40 milioni ma viene penalizzato dall'infortunio subito di lorenzo e palmieri mantengono stabile il loro valore di mercato 24 e 12 milioni di euro bonucci e chiellini rimangono pari per età ma sono stati tra i migliori al mondo nel loro ruolo giorginio ha un valore comunque di mercato di 40 milioni di euro ma per portarlo via dal celsi ne serviranno 60 barella mantiene stabile il valore di 65 milioni e verrati in teoria di 55 milioni ma il psg non è disposto a contrattare a meno di 70 milioni per lui per locatelli si va dai 40 ai 60 milioni di euro ed è in netta crescita il valore di pessina che passa da 20 a 40 milioni di euro chiesa vale per la juventus 80 milioni ed è in crescita pensate anche berardi che passa da 35 a 50 milioni raspadori è salito da 15 a 30 milioni grazie alla sola convocazione di mancini stazionari immobili e insigne che pensate rispettivamente valgono 40 e 50 milioni per oggi è tutto io vi aspetto domani con una nuova puntata di business sport 24 un saluto da elisa mazzucchelli ciao